ciao stelline e bentornate sul canale e bentornati come ogni mercoledì creò dei personaggi e ho deciso di creare quelli di inside out 2 allora inizio creando ansia allora lei la metto così sì perché è più bassa di gioia però tipo è più alta di invidia di rabbia quindi così ci sta allora la pelle arancione vediamo non c'è l'arancione posso mettere questo sì ci sta allora occhi allora occhi lei ha sempre questa espressione però poi cambia la faccio e la bocca quindi è più senso e agli occhi verde acqua scuro cioè non li ha verdi proprio però sono così perché se non li metto verde scuro vedo chiaro proprio no non lo so ma si lascio questi poi sopracciglia metterei queste perché così posso fare quel sorriso che fanno tipo con l'ansia adesso metto la bocca allora lei ha una bocca enorme è un sorriso sforzato quindi potrei mettere questo sì è strana come bocca però sì perché lei ha proprio una bocca grande proprio con la faccia per fargli con la bocca grande quindi ci sta quel sorriso che fai però con l'ansia capelli allora ovviamente gli arancioni questo arancione acceso allora lei davanti davanti potrei mettere tipo questi e dietro lei ha quella coda alta tutta sparata questo sì perché questo è da una parte questa coda non va bene sì direi che va bene quello bene ora i vestiti lei è una maglia bianca righe arancioni qui non c'è cioè io metterei questa non saprei cos'altro metterli una maglia arancione così no è troppo semplice qui non c'è niente questa però è a righe in verticali poi no riferisco questa allora pantaloni marroni cioè di marroni ci sono questi c'è perché mettere questi classici col che scegli il colore non lo so anche se sono larghi in fondo e questi finiscono stretti vabbè lascio quelle scarpe marroni sono più tipo degli anfibi metto queste sì dai li assomiglia molto ecco ansia bene adesso faccio invidia lo faccio su un altro personaggio così allora togliamo danny tanto non mi serve più da molto per chi non lo sapesse è un personaggio di una serie che ormai ho chiuso se volete andate a vederla beh invidia è strabassa quindi metto questo allora innanzitutto gli tolgo gli occhiali allora pelle la verde acqua e qui non c'è c'è questo verde o questo azzurro metterei questo verde occhi lei ha sempre quell'espressione che fa tipo gli occhi dolci con delle stelline negli occhi vediamo potrei mettere questi però non lo so perché questi non puoi scegliere colore lei li ha verde acqua o metto questi questi perché lei non ha l'eyeliner neanche le ciglia questi non lo so fa un po' paura con questi occhi è inquietante perché questi è la pecca è che non si può scegliere il colore vabbè posso mettere questi almeno scelgo il colore e gli ha verde acqua scuro e mi sa che eh sì li ha già perché sennò qua ci sono verdi questi vanno già bene allora sopracciglia le ha verde acqua scuro così e allora lei ha sempre questa espressione che fa oh che bello tipo vorrei avere anch'io quella cosa cioè adesso metto la bocca vediamo tipo così o così oh non lo so tipo wow metterei questa perché sennò l'altro sembra più stupore o altre emozioni quindi metto questa che fa oh che bello poi ha il blush rosa quindi questo capelli allora lei li ha corti sempre verde acqua scuro quindi direi questo allora dietro cioè questi sono troppo lunghi no li ha tutti cioè vabbè so quali mettere questo no di sicuro posso mettere questo che è proprio di questa forma qua e davanti allora e lei ha le orecchie coperte anche che non credo abbiano le orecchie questo no non ha la frangia no non ha i capelli in faccia ma questi sono brutti no 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 vabbè sì cioè sì dai questo ci stanno poi ha delle pinze viola no allora queste potrebbero andare delle pinze normali metto queste poi lei anche come disgusto ha un vestito con i pantaloni non so perché si vestono così cioè io il vestito glielo posso mettere ma non posso mettere i pantaloni proviamo un vestito lilla pallini bianchi e posso mettere maniche lunghe ah eh però quello che scelgo il colore è corto vabbè cioè maniche corte vabbè vediamo lilla posso mettergli delle calze fucsia li metto queste ci stanno riprendono si riprendono i pallini del vestito che non posso metterli bene poi ha degli stivaletti verde acqua scuro li metto questi bene ecco qui ansia e invidia fatemi sapere nei commenti se vi piacciono qual è la vostra preferita e potete richiedere delle emozioni per i prossimi video poi posso poi continuare a creare anche i personaggi di asbin hotel magari li alterno a questi di inside out faccio un po' quelli un po' questi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate like al video se vi è piaciuto ciao alla prossima ciao 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 ciao